Salva casa legge di conversione, la numero 105 del 2024, in gazzetta ufficiale, alvia le modifiche e tutto quello che era stato introdotto due mesi fa, a fine maggio, con il decreto 69. Quello che abbiamo di fronte, la legge di conversione, la 105, è completamente nuova rispetto a quello che era stato pubblicato col decreto 69. In questo video, analisi completa dalla A alla Z di tutto quello che è stato introdotto, con il testo coordinato per capire di cosa si sta parlando. E poi, come sempre, per quanto riguarda i chiarimenti, c'è la sezione esclusiva di Patreon alla quale ti invito ad abbonarti. Ti ricordo, però, che per quanto riguarda le sanatorie, le sanatorie, le tolleranze, le verifiche delle tolleranze, le verifiche dal punto di vista urbanistico, necessita, a differenza delle normative sui bonus, che possono essere in qualche modo orizzontali per tutti le risposte, qui ogni caso è specifico a sé, perché entrano in gioco normative regionali, normative comunali, specificità dell'immobile, ubicazione, PRG, ciò che è stato realizzato nei titoli precedenti, quando è stato realizzato. Quindi non è possibile dare una risposta. Perciò, se cercate risposte tipo, ho una soffitta, posso trasformarla in abitazione? Sì, ma anche no. Dipende. Bisogna fare delle analisi. Le analisi non le posso fare io, io ti posso informare su tutto quello che prevede la normativa, poi l'accesso agli atti, le verifiche sul posto, le misurazioni, i sopralluoghi, eventuali controlli di tipo strutturale. Questo può essere fatto solo dal tecnico che incaricherai e pagherai per la pratica che ti deve fare. Non ti posso dire io se puoi, non puoi, sanare, non sanare. Ti posso dire qual è la normativa e che cosa prevede. Ma poi il tuo caso specifico lo devi andare ad analizzare con un tuo tecnico, ancora di più rispetto ai bonus edilizi. Perché la normativa del testo unico dell'edilizia, che è quella di cui stiamo parlando, non è proprio banale, banale, banale. E qui doveva esserci qualcosa, ma perché non c'è? Perché non c'è? Adesso la metto subito, eh. Sassassassassa Sassassass Eccola Abbiate pazienza Questo è un video che durerà qualche minuto in più del solito Ecco qui il portale Patreon al quale vi invito ad iscrivervi per sostenere questo mio impegno online con un abbonamento base sostenete il mio lavoro online se c'è possibilità di approfondire con i livelli superiori potete abbonarvi anche ai livelli superiori quello che preferite potete fare anche un abbonamento annuale scontato ci sono diverse altre opzioni i miei contenuti sono tutti qui nel canale youtube e pubblico poi ripubblico sulla portale patreon qualche giorno diversi giorni dopo anche su tiktok visto che tiktok permette di caricare video ah mi trovate anche sui podcast questi video li trovate anche come audio sui podcast quindi grazie a tutti quelli che mi stanno ascoltando adesso via audio sui podcast su spotify su apple podcast tutte le piattaforme eccola qua legge di conversione la 105 del 2024 con modificazioni rispetto al decreto 69 del 29 maggio scorso analisi da zero completa da zero andiamo a vedere direttamente il testo coordinato della legge di conversione ovviamente e analizziamo punto per punto articolo per articolo quello che è stato modificato nel testo unico dell'edilizia eccolo qua testo del decreto legge 29 testo del decreto legge del 29 maggio decreto 69 coordinato con la legge di conversione 105 disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia urbanistica le modifiche apportate qui in questo testo come sempre accade da diversi anni a questa parte della legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi la modifica va a intervenire sul testo unico dell'edilizia il dpr 380 2001 ecco qua il primo che viene inserito e che non era previsto nella legge di nel primo decreto all'articolo 2 bis del testo unico mi metto di fianco anche il testo unico poi quando avrò proprio il testo unico tutto coordinato lo metterò a disposizione anche degli abbonati quindi questo testo con tutte le sottolineature lo metterò a disposizione degli abbonati come tutti i link dei riferimenti ai documenti li metto sempre a disposizione degli abbonati a livello almeno accesso anticipato ai video da lì cominciano i link ai documenti e poi proprio i documenti quelli che realizzo io tipo le slide se le realizzo e quando le realizzo sono a disposizione solo su Patreon articolo 2 viene inserito solo il comma 1 quater per il recupero dei sottotetti al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta fammi vedere se l'audio sta registrando perché questo sarà un video lunghetto al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo del suolo gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale quindi bisogna sì si possono recuperare i sottotetti in base alla tua legge regionale anche quando l'intervento di recupero non consente il rispetto delle distanze minime tra gli edifici dai confini a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio quindi devono essere state rispettate le regole nel momento di costruzione dell'edificio ho bisogno d'acqua oggi è caldo oggi è caldo è un mese che è caldo che non si hanno apportato modifiche nella forma e nella superficie dell'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che deve essere rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione questa è la prima introduzione poi c'è la modifica all'articolo 6 parliamo di edilizia libera edilizia libera articolo 6 la prendiamo subito i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo e qui si parla di logge allora andiamo le VEPA realizzate sulle logge possono essere appunto montate senza titolo abilitativo l'importante è che le logge non siano prospicenti o non siano gravate da diritti di suolo pubblico dice di logge rientrare allora la leggo tutta la leggo tutta anche quello che non c'è riportato nella legge di conversione gli interventi di realizzazione di installazione delle VEPA accorcio un po' dirette ad assolvere funzioni temporali di protezione di gente atmosferici acustici eccetera 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 dei balconi dal corpo dell'edificio di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati ad eccezione dei porticati gravati in tutto in parte dal diritto di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicente aree pubbliche viene chiarito che per quanto riguarda le protezioni solali le opere dal sole e dagli agenti atmosferici quello che è stato inserito poi eccole qui le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici si legge bene? sì la cui struttura sia costituita da tende tende da sole tende ad esterno ma anche pergole bioclimatiche rientrano nell'edilizia libera anche questo poi c'è lo stato legittimo articolo 9 bis comma 1 bis stato legittimo degli immobili quale documentazione serve per poter attestare lo stato legittimo lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello rilasciato ha sentito che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio e questa è la grossa modifica che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare a condizione a condizione che l'amministrazione competente in sede di rilascio del medesimo abbia verificato la legittimità dei titoli progressi comunque una verifica di tutti i titoli della storia da quando è stato costruito l'edificio l'immobile al momento attuale deve essere fatta da parte di chi dell'amministrazione competente sul titolo che viene preso come quello l'ultimo che è intervenuto sull'intero edificio sull'intera unità tra i titoli che possono essere presi in considerazione sono quelli rilasciati in base agli articoli 34 ter 36 36 bis 38 previo pagamento delle sanzioni che parliamo delle sanatorie alla determinazione del stato legittimo concorrono altresì il pagamento delle sanzioni di quegli articoli 33 34 e 37 una introduzione importante durante la legge di conversione è questa qui se si evidenzia ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio quindi se ci troviamo in condominio gli interventi lo stato legittimo per la singola unità non è inficiato da eventuali difformità sulle parti comuni e viceversa ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti nelle singole unità immobiliari dello stesso poi c'è l'articolo 23 ter i cambi di destinazione d'uso altra questione molto spinosa cambi di destinazione d'uso agevolati semplificati non per i piani ter e piani interrati 23 ter eccolo qui mutamento delle destinazioni d'uso ai fini del presente articolo il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione delle opere e poi è stato chiarito ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di quell'articolo 6 cioè edilizia libera se per fare il cambio di destinazione fai opere internamente che rientrano in edilizia libera allora sono considerati senza opere il passaggio tra le varie categorie funzionali è consentito A, B, C e D il mutamento della destinazione nella stessa categoria è sempre consentito altre sì sono ammessi anche i passaggi tra le varie categorie A, B, A A, B, B e C nelle zone A, B, C nelle zone edificate nei centri storici eccetera 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 dicono il ministro della Repubblica delle normative del settore fermare stando ok nei casi di cui al comma 1 ter il mutamento d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento delle ulteriori aree per i servizi e questa è una delle modifiche importanti il cambio di destinazione anche se carica urbanisticamente la zona può essere fatto anche senza reperire le aree né e cioè non è necessario reperire i parcheggi il piano primo fuori terra e cioè il piano terra o i seminterrati il cambio destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale che prevede i casi di strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone e poi c'è tutta la modifica che riguarda tutte le modifiche dei commi successivi che riguardano il mutamento destinazione d'uso fermo restando per i mutamenti accomagnati dall'esecuzione delle opere riconducibili per 6 bis si procede senza della lettera a il modo in cui deve essere diciamo autorizzato il cambio di destinazione d'uso passiamo invece all'agibilità articolo 24 l'agibilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza igiene salubilità risparmio energetico di edificio nonché la conformità all'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante la segnalazione certificata e questo deve essere fatto nelle ricostruzioni sopraelevazioni nuove costruzioni importanti ristrutturazioni eccetera 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 viene inserito il comma 5 bis nell'emore della definizione dei requisiti di quell'articolo 20 comma 1 bis ai fini della certificazione delle condizioni di quel comma 1 del presente articolo cioè l'agibilità e dell'acquisizione dell'assenza da parte dell'amministrazione competente fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente il tecnico abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto anche in deroga alle norme igienico-sanitarie dove nei locali con altezza minima anche inferiore a 2,70 fino ad un'altezza minima di 2,40 per gli alloggi per quanto riguarda le superfici monolocali fino a un minimo di 24 metri quadri per i bilocali fino a un minimo di 28 metri quadri può essere attestato lo stato legittimo anche in questi casi con delle misure inferiori a quello che prevede la normativa igienico-sanitaria però che cosa serve? serve innanzitutto l'adattabilità per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche e questo c'è sempre la dichiarazione in base al decreto del ministro 236 e almeno una delle seguenti condizioni quindi per attestare un'altezza inferiore quindi l'agibilità interventi su un immobile attestare che l'immobile sia agibile anche con un'altezza inferiore a 2,70 è possibile quando? quando i locali sono situati in un edificio sottoposto ad intervento di recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie o sia contestualmente quindi nel momento in cui si deve attestare l'agibilità presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie deve essere presentato un titolo ci deve essere dei lavori per poter attestare dei lavori specifici che riguardano le condizioni igienico-sanitarie per poter attestare l'agibilità anche con un'altezza inferiore o una superficie inferiore per quanto riguarda monolocali e bilocali la modifica all'articolo 31,5 cioè le opere realizzate in assenza di permesso o con variazioni essenziali andiamole a vedere articolo 31,5 e qui riguarda la demolizione delle opere realizzate in difformità allungato il termine a 240 giorni questo è l'intervento normativo con le leggi di conversione nei casi di comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti o di assoluto bisogno di situazioni di disagio socio-economico che rendano inesigibile il rispetto di tale termine e poi c'è la parte dove l'immobile preso in carico acquisito dall'ente pubblico dal comune può rivenderlo alienarlo non all'acquirente non può riacquistare chi ha eseguito l'abuso ecc 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 le tolleranze costruttive articolo 34 bis articolo 34 bis 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 parziale parziale di formità la demolizione non può avvenire senza pregiudizio si aumenta il costo da pagare dal doppio passa al triplo del costo di produzione dal doppio del valore venale passa al triplo del valore venale e poi il 34 bis con le nostre tolleranze quelle introdotte dal decreto 69 per tutti gli interventi realizzati entro il 24 maggio il mancato rispetto dell'altezza dei distacchi della cubatura della superficie coperta e di ogni altro parametro quindi misurabile delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro quanti entro che percentuale 2% per gli immobili sopra 500 metri quadri 3% per gli immobili tra 300 e 500 metri quadri 4% per gli immobili tra 100 e 300 metri quadri 5% per gli immobili sotto a 100 metri quadri 6% questa è la nuova introduzione nel corso di conversione in legge per gli immobili con superficie inferiore a 60 metri quadri ovviamente la superficie si intende ovviamente un cavolo nel senso è scritto nella norma si intende la superficie utile e la superficie utile assentita dal titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento gli scostamenti di cui è il comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure individuali alle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari questo è un intervento normativo oppure che è intervenuto in corso di conversione legge poi ci sono le tolleranze esecutive tolleranze esecutive eccole qua su comunque si vede tolleranze esecutive sempre per gli interventi entro il 24 maggio 2024 il minore dimensionamento dell'edificio la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali irregolarità esecutive di muri esterni interni di forma ubicazione delle aperture interne di forma esecuzione di opere di manutenzione ordinaria errori progettuali corretti in cantiere errori materiali di rappresentazione progettuale queste sono tutte tolleranze esecutive per questo non bisogna fare sanatorie questo ecco ho fatto una cavolata questo 34 bis con le tolleranze se si rientra entro le tolleranze è già sanato lo si dichiara ok ma è già sanato di suo e infatti sono dichiarate dal tecnico abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili nelle nuove istanze nelle segnalazioni edilizie con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti di trasferimento costituzione scioglimento della comunione diritti reali eccetera 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 nelle zone sismi che va attestato anche rispetto delle norme tecniche per quanto riguarda le costruzioni va presentato allo sportello unico è stata tolta tutta la responsabilità che è caricata sul tecnico per quanto riguarda la limitazione dei diritti di terzi comunque queste opere non devono costituire un limite ai diritti di terzi ma è stato tolto l'obbligo di attestazione in capo al tecnico che era diciamo improprio come responsabilità poi ci sono l'articolo 34 ter e cioè per tutti gli interventi realizzati in variante quando le varianti non erano previste al titolo edilizio ante legge Bucalossi casi particolari di interventi eseguiti imparziali difformità al titolo gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità al titolo rilasciato prima della legge del 28 gennaio 77 legge numero 10 quindi prima del 77 e che non sono riconducibili ai casi del 34 bis possono essere regolarizzati qui non si parla di tolleranze qui si parla di regolarizzazione cioè di sanatoria con le modalità dei commi 2 e 3 sentite l'amministrazione competente secondo me commo 2 l'epoca di realizzazione delle varianti di quel comma 1 è provata mediante la documentazione dell'articolo 9 bis comma 1 bis in mancanza della documentazione e qui mi sono espresso tante volte su insensatezza di questa cosa lo deve attestare il tecnico cioè il tecnico oggi io anche io sono nato nel 78 dovrei attestare se non c'è la documentazione quindi non c'è modo di saperlo in modo oggettivo dovrei attestare l'epoca di realizzazione ante 77 di qualcosa che non conosco come posso io tecnico con tutte le responsabilità che mi caricano addosso non lo so il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione possono regolarizzare con una scia ecco deve essere presentata una scia deve essere pagata l'oplazione attenzione quello che ho detto prima sulle tolleranze sulla sanatoria e non una tolleranza in questo caso diventa una tolleranza costruttiva nel caso in cui sia stata rilasciata l'agibilità o l'abitabilità attraverso un sopralluogo le parziali difformità realizzate durante l'esecuzione dei lavori di un titolo abilitativo e qui vale sempre accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dei funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia rispetto al quale non si è eseguito un ordine di demolizione riduzione di ripristino e tutto quanto che sia tutto in regola è stato fatto un sopralluogo è stato accertato che è tutto in regola sono soggette in deroga alla disciplina delle tolleranze costruttive quindi se è passato il messo 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 vabbè o la guardia a fare il sopralluogo per l'agibilità e l'abitabilità o come si chiamava prima tutto sanato tutto sanato anzi no meglio tutto tollerato non c'è niente da pagare articolo 36 arriviamo alle sanatorie vere e proprie l'articolo 36 viene in parte modificato e questo riguarda le opere realizzate senza titolo o in totale difformità e rimane la sanatoria solo se risulti l'opera difforme sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della realizzazione sia alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della presentazione della domanda questa è la doppia conformità quella che avrebbe dovuto superare questo decreto legge e poi c'è l'ultimo il 36 bis invece che è la sanatoria light con la doppia conformità light l'accertamento di conformità nell'ipotesi di parziale difformità e di variazioni essenziali che sono state introdotte in corso di conversione in legge in caso di interventi realizzati in parziale difformità al permesso di costruire a qui si parla sempre di opere realizzate in difformità ad un titolo no ex novo devono essere state realizzate nell'arco di vigenza di un titolo durante dei lavori in caso di interventi realizzati in parziale difformità del permesso di costruire della scia fino alla scadenza l'attuale proprietario o il responsabile dell'abuso possono ottenere il permesso di costruire la segnalazione certificata in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente oggi disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda nonché ai requisiti della disciplina edilizia al momento della realizzazione quindi è una doppia conformità light rientra in questa possibilità di sanatoria rientrano anche le variazioni essenziali quelle dell'articolo 32 variazioni essenziali che devono essere stabilite dalle regioni articolo 32 fermo restando quanto disposto dal comma 1 articolo 31 le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni mutamento della destinazione aumento consistente della cubatura della superficie e questo può cambiare molto da regione alla regione quindi diventa di fatto un condono anche per le abitazioni eccetera 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 questa variazione questa legge di conversione la numero 105 non ricordo più se è la numero 105 sì la 105 quindi anche le variazioni essenziali il permesso è presentato allo sportello unico in sede di esame delle richieste del permesso lo sportello può condizionare il rilascio al provvedimento della realizzazione da parte del richiedente degli interventi anche strutturali per questione di sicurezza sono state eliminate le questioni di igiene salubrità efficienza energetica degli edifici eccetera 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 la dichiarazione del professionista deve attestare le conformità per la conformità edilizia dell'epoca di realizzazione la dichiarazione resa in riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento l'epoca si attesta mediante la documentazione del 9 bis comma 1 bis quarto e quinto periodo o come prima se non c'è la documentazione deve attestarlo il tecnico pena responsabilità penale comma 5 rilascio del permesso della segnalazione certificata di iniziatività in sanatoria è subordinato al pagamento dell'oblazione che è pari al doppio del contributo di costruzione incrementato del 20% in alcuni casi in alcuni casi no pari al doppio dell'aumento del valore venale valutato nei competenti non inferiore a 1032 e non superiore a 10.000 qui sono state significativamente ridotte perché i 10.328 nella legge nel decreto erano 30.000 euro i tempi sono molto ridotti il silenzio assenso nel caso di mancata risposta si allungano un po' nel caso in cui serve il rilascio da parte della sovrintendenza del parere i tempi sono 45 giorni sulla richiesta del permesso comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro 45 giorni alle segnalazioni di iniziatività invece si applica il termine di quell'articolo 19 della legge 241 quindi i 30 giorni e siamo arrivati alla fine con questo siamo arrivati alla fine queste sono tutte le modifiche che sono state apportate al testo unico dell'edilizia sia dalla legge sia dal decreto 69 del 29 maggio scorso che dalle successive modifiche intervenute in corso di conversione in legge che ha che è stata pubblicata lo scorso 28 entra in vigore il 28 7 quindi è stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 27 eccola qui ve lo metto il 27 luglio sono già in vigore vedremo vedremo effettivamente poi a settembre quali saranno i volumi di di richieste perché ad oggi effettivamente ci sono tanti scettici sulla possibilità di sulla reale efficacia di questo intervento normativo che ha delle potenzialità ma che è effettivamente comunque subordinato a tantissimi a un pagamento che non tutti possono permettersi a meno che tu non rientri nelle toleranze costruttive esecutive che quindi sono già sanate di suo comunque c'è una verifica da fare c'è da pagare un tecnico per fare delle verifiche quindi non è mai a costo zero con questo ti ringrazio ti invito a lasciare mi piace ti invito ad abbonarti perché questi miei contenuti e questo mio canale si sostiene grazie agli abbonati grazie a tutti voi che avete rinnovato l'abbonamento a voi che vi siete uniti da poco al canale a chi è fedele da tanti anni oramai al canale il vostro contributo è fondamentale senza gli abbonati io non mi potrei non potrei dedicare così tanto tempo allo studio all'analisi alla realizzazione dei video per analizzare e approfondire le normative che riguardano la casa bonus edilizi o normative urbanistiche come in questo caso o normative catastali come ultimamente raramente ma negli anni precedenti in modo molto più approfondito ho trattato grazie a tutti buona serata perché sto registrando di sera buon proseguimento di giornata in qualunque giorno tu stia guardando questo contenuto lascia mi piace grazie a tutti grazie a tutti